Ah, l'Irlanda, che magico posto! La Guinness, i Folletti, San Patrizio, il rugby! Scusate, ho un debole per l'inno irlandese. Ma sapete cosa c'è? A furia di parlare d'Irlanda, mi è venuta sete. Aspettate un attimo. Interessante. Perché lo sponsor di oggi è Hopped. Hopped è un negozio online che vende birra e ha un catalogo estremamente fornito e una spedizione super sicura. Ad esempio qui mi hanno regalato un kit di degustazione con addirittura un bicchiere. E per Natale hanno dedicato una pagina intera proprio per i regali di Natale, con kit esclusivi e promozioni. Quindi invece di regalare la solita tristissima cesta di Natale, perché non regalare ai vostri cari un po' di birra? Sono sicuro che sarà molto più apprezzato. Ma un'altra cosa interessante dell'Irlanda è il suo PIL. Infatti avete mai visto il testo di crescita del PIL irlandese? Guardate qui. Nel 2015 sono riusciti a crescere del 25%, che è una cifra spropositata, è enorme. E quindi la domanda è, come diavolo hanno fatto? Hanno per caso inventato gli alberi che cacciano soldi al posto delle foglie? Oppure il ministro delle finanze irlandese abbia avuto qualche Guinness di troppo? La risposta non è né una né l'altra. Mensì c'entra la tassazione irlandese, che nel 2015 ha avuto un cambiamento. E quindi le multinazionali che sono dentro, che hanno la sede in Irlanda, hanno dovuto pagare nuove tasse allo Stato irlandese. E quindi spiegato il 25%. Krugman, un famoso economista, ha definito questo evento come l'economia del folletto. In quanto l'influenza delle multinazionali sui conti pubblici irlandesi rendevano questo paese artificiosamente uno dei paesi più ricchi del mondo. Anche se poi se andiamo in dettaglio e compariamo il PIL con il reddito nazionale lordo, vediamo come c'è un enorme scostamento di ricchezza tra il paese e i conti pubblici nazionali dovuti per l'appunto all'influenza delle multinazionali che spopolano all'interno dell'Irlanda. E sapete qual è una delle principali multinazionali che hanno sede in Irlanda e che hanno scaturito proprio questo fenomeno? Apple. E oggi ci occupiamo proprio di Apple e del suo caso di elusione fiscale in Irlanda tra il 2003 e il 2014. Il caso Apple Irlanda è un caso molto particolare che ha creato molto scalpore all'interno dell'opinione pubblica perché Apple è riuscita a diminuire il suo livello di tassazione sui profitti provenienti dalle vendite nel continente europeo dal 1% nel 2003 allo 0,005% nel 2014. Così ovviamente la Commissione Europea si è insospettita e nel 2014 ha aperto un'inchiesta riguardo proprio il caso Apple Irlanda e l'elusione delle tasse irlandesi che si è conclusa nel 2016. Nel 2016 la Commissione Europea ha sancito illegale le operazioni tra Irlanda ed Apple e ha dichiarato che Apple è evaso tra il 2003 e il 2014 ben 13 miliardi di euro. Ma come diavolo ha fatto Apple a pagare così poche tasse in tutto questo tempo? Scopriamolo. Apple riusciva a vendere in Europa grazie a due affiliate e cioè Apple Operations Europe e Apple Sales International. Quindi quando voi andavate a comprare qualche prodotto negli Apple Store in realtà fiscalmente stavate acquistando proprio presso queste due imprese che avevano sede in Irlanda. Quindi tutti i profitti venivano trasferiti in Irlanda. A questo punto una parte dei profitti veniva trasferita in America per finanziare i costi di ricerca e sviluppo mentre l'altra grande fetta di profitti veniva trasferita ad un head office che in realtà non aveva una vera e propria sede e per questo riuscivano a non pagare tasse. Dovete sapere però che la Commissione Europea non ha alcun potere riguardo il livello di tassazione di ogni singolo paese perché quella materia è una materia che ha una sovranità nazionale quindi ogni nazione può decidere il proprio livello di tassazione e l'Europa non può fare fino ad adesso perlomeno nulla. Infatti il motivo per cui la Apple e l'Irlanda sono state sanzionate dalla Commissione Europea non è per l'appunto perché il livello di tassazione era troppo basso cosa che per l'appunto non può fare ma perché la tassazione applicata dall'Irlanda a Apple non aveva alcuna giustificazione economica e che si supponeva ci fosse un patto tra Irlanda ed Apple il patto che ovviamente lede i principi di concorrenza perché sostanzialmente l'Irlanda sta dando un vantaggio competitivo ad Apple nei confronti di tutte le altre imprese appartenenti all'Irlanda ma non solo a tutti i livelli europei. Per questo è stato configurato il caso di Apple e Irlanda come un vero e proprio aiuto di Stato che come sappiamo non può esistere all'interno delle leggi europee. Per questo appunto è stata sanzionata l'Irlanda di dover recuperare da Apple 13 miliardi di dollari proprio perché c'è stato questo favore dell'Irlanda nei confronti di Apple che ha generato un vero e proprio aiuto di Stato perché appunto ha reso Apple in una situazione più competitiva rispetto alle altre imprese che magari questo beneficio fiscale non l'hanno potuto ottenere. E quindi Apple ha dato indietro 13 miliardi di euro all'Irlanda? La risposta è no. No perché Apple ha fatto ricorso riguardo questa sanzione da parte della Commissione Europea e questo ricorso l'ha vinto proprio nel luglio del 2020 quindi qualche mese fa. Questo perché come abbiamo detto l'Europa non ha alcun potere riguardo al sanzionare la struttura fiscale di un paese e quindi per muovere questa sanzione ha detto che c'era stato qualche tipo di accordo di favore dell'Irlanda nei confronti di Apple. Però durante il ricorso Apple è riuscita a dimostrare che no, non c'era alcun favore da parte dell'Irlanda nei confronti di Apple e che anzi le regole fiscali dell'Irlanda erano chiare a tutti e che quindi non c'era stato appunto nessun vantaggio competitivo che l'Apple aveva acquisito tramite appunto questo favore perché appunto questi meccanismi che abbiamo appena spiegato potevano essere accessibili a qualsiasi impresa che facesse parte, che avesse la sede in Irlanda. Ovviamente a questo ricorso la Commissione Europea ha deciso di fare un ulteriore ricorso quindi dovremmo ancora aspettare l'ultima parola da parte della Corte di Giustizia Europea. Però qui si evidenzia uno dei grandi problemi dell'illusione e cioè che ci deve essere un accordo internazionale affinché appunto le imprese possono pagare un livello di tassazione giusto anche se poi bisogna definire con precisione cosa significa giusto. E quindi cosa si è fatto fino ad adesso riguardo questa tematica dell'illusione da parte degli stati europei e anche da tutti gli stati mondiali. Andiamo a vederlo proprio adesso. L'Ox ci dice che il fenomeno dell'illusione fiscale è entrato alla ribalta dopo la crisi del 2008. Dell'illusione fiscale L'Ox se ne è occupato in maniera concreta e delineata dal 2013 e solo nel 2015 ha redatto un report in cui collaboravano 60 paesi mondiali. Questo report veniva chiamato e viene chiamato tuttora BEPS che è un acronimo che sta per Base Erosion and Profit Shifting. In questo documento vengono definite 15 azioni che secondo l'Ox gli stati devono implementare affinché il fenomeno dell'illusione fiscale può in un qualche modo avere un qualche tipo di contenimento. Dopo lo studio del 2015 da parte dell'Ox è la volta della Commissione Europea che nel 2016 propone 5 regole principali per cercare di contenere l'illusione fiscale. In queste 5 regole vanno a combattere dei comportamenti delle multinazionali che abbiamo già analizzato nel video precedente riguardo l'illusione e quindi il profit shifting gli brevetti che circolano tra le multinazionali in modo da eludere per l'appunto il fisco oppure il fenomeno di testi di interesse molto elevati eccetera eccetera. Se volete approfondire andate a guardare quel video. Quindi nel 2016 per l'appunto la Commissione Europea propone degli strumenti per cercare di combattere per l'appunto queste abitudini da parte delle multinazionali. Il problema anche qui è che come abbiamo detto la Commissione Europea non ha dei veri e propri poteri sul sistema fiscale di ogni nazione e per di più lo specifica anche nelle direttive che sono state emanate successivamente le proposte che ha fatto la Commissione Europea sono delle linee guida sono delle linee guida generali che devono essere applicate da parte di ogni Stato perché il sistema fiscale di ogni Stato è così diverso che solo lo Stato stesso sa interpretare al meglio le disposizioni da parte della Commissione Europea e quindi ci sono non pochi problemi nell'implementazione che dovrebbe essere già avvenuta nel primo gennaio del 2019 quindi ormai sono passati due anni. Il problema in tutto ciò è un po' simile a quello del cambiamento climatico infatti il fenomeno è un fenomeno globale e azioni provenienti da un singolo Stato hanno un impatto nullo o almeno minimo riguardo il fenomeno e quindi l'importante proprio come il cambiamento climatico è avere un accordo internazionale il più grande possibile infatti ad esempio in questo caso l'Ox ha fatto dei progressi infatti si è passati da 60 nazioni aderenti al BEPS nel 2015 al 2020 che ad oggi hanno aderito al BEPS più di 130 nazioni e la strada è proprio quella cercare di far aderire più nazioni possibili perché purtroppo oggigiorno le imprese multinazionali possono gironzolare da una nazione all'altra per cercare di eludere il fisco e come abbiamo visto nel precedente video l'elusione del fisco di per sé non rappresenta un vero e proprio reato penale e quindi il punto è tutto lì cercare di trovare un accordo tra stati che purtroppo molto spesso hanno degli interessi opposti che molto spesso divergono tra appunto stati che hanno un livello di tassazione molto basso un po' per scelta politica un po' perché sono efficienti a livello bureaucratico eccetera eccetera e un po' su altre nazioni che hanno un livello di tassazione più alto in questo senso tra l'altro la commissione europea sta cercando ulteriormente di fare passi avanti ad esempio cercando di introdurre la digital tax a livello europeo che ha un obiettivo non solo quello di creare una politica fiscale comune a livello europeo è quello di finanziare il next generation EU ma anche quello di cercare di combattere per l'appunto proprio questo fenomeno che in particolare è molto comune nelle aziende digitali che non hanno un vero e proprio luogo fisico dove creano il profitto come ad esempio può essere non lo so una classica impresa che produce in un luogo fisico un determinato bene e poi lo vende sul mercato mentre le imprese digitali hanno molta più facilità a eludere il fisco proprio perché il valore aggiunto che danno tramite i servizi molto spesso digitali può essere spostato come abbiamo detto anche in un precedente video tramite i brevetti eccetera eccetera e quindi in questo senso si stanno cercando di fare dei passi avanti però il problema è sempre quello simile come abbiamo detto al cambiamento climatico ci deve essere per risolvere il problema un accordo internazionale il più largo possibile detto ciò spero di avervi dato un minimo un quadro della situazione riguardo l'illusione fiscale del caso Apple che ormai è passato alla storia e vi saluto ringraziando gli abbonati e ricordandovi di fare un giusto regalo ormai ho finito la birra quindi non posso più berla di fare un regalo sicuramente giusto e che sarà sicuramente apprezzato regalando magari un pacco di degustazioni di birra o qualsiasi altra cosa come al solito vi lascio il link in descrizione per vedere tutta l'offerta di Opt detto ciò ci vediamo al prossimo video che sarà il nuovo format il podcast ogni venerdì sarà un weekly news che ho ricevuto molti commenti molto positivi e sono contento e vi ringrazio per questo anche se c'è tanto da migliorare quindi ci vediamo venerdì alla prossima ciao